I prodotti che sono sul mercato, che ti permettono di fare una cucina più all'avanguardia, sono alla portata di tutti. Però secondo me tutte queste tecniche ti devono aiutare a migliorare e a valorizzare il prodotto che tu hai in mano. Se le tecniche ti sminuiscono il sapore e la bellezza di quello che ti hai in mano, è inutile trattarle. Ci devono solo aiutare a migliorare e a non distruggere quello che noi abbiamo.